Benvenuti al GCN Italia Show numero 268, oggi siamo con Gianluca Crespi, dottore commercialista che ci aiuterà a capire un po' meglio come fare a tesserarsi a correre se sei un allievo, uno junior e se vuole fare l'eserismo agonistico. C'è colui con me oggi anche per Chiara, negli Emirati Arabi Uniti, a filmare Cammelli, non so quando tornerà per ora. Stiamo a senza di lui e andiamo avanti parlando di cose un po' tecniche. Ticca la puntata. Devi urlare lead story, ti tocca. Posso farlo veramente? Devi farlo tu, è stato vietato la mia possibilità di urlare lead story negli show Porta Sfortuna, è quello che si dice, quindi prego. Questo è un sogno che si realizza. Urli lead story per favore, prego. Lead story! Bene, Gianluca, dottore commercialista, 32 anni, quando avevo fatto una puntata sull'ASD, su quello che è cambiato, così mi avevi scritto per cercare di fare un po' più di chiarezza, abbiamo detto qualcosa di giusto, qualcosa di un po' meno giusto. Tu ti sei informato tanto su queste cose, ci lavori già con dell'ASD e allora ti ho chiesto, dai facciamo una puntata insieme, però voglio capire come può fare un ragazzo di 17 anni a iniziare a correre a livello agonistico in Italia se non trovo una squadra, che è un po' un problema che mi sta molto a cuore, anche perché il ciclismo su strada è uno sport che porta ad emergere tardi, essenzialmente, e non è detto che iniziare a correre da G1 facendo solo strada sia la scelta migliore in assoluto se si vuole provare a diventare un professionista e quindi in Italia secondo me manca la possibilità di entrare in questo sistema a 14, 15, 16, a 7 anni insomma dagli allievi e junioris diventa sempre un po' più complicato. Quindi la mia domanda era si può creare una squadra, magari un genitore, un insieme di amici e andare a correre, mettiamo in una categoria di junioris, quali sono le problematiche? Partiamo dall'inizio, cioè cosa bisogna fare inizialmente? Allora la soluzione fai da te esiste, esiste ed è anche abbastanza semplice a livello burocratico, nel senso che aprire un'associazione sportiva dilettantistica ha un costo abbastanza limitato in quanto si tratta di 200 euro di imposta via registro e 16 euro di marca da bollo e basta depositare un atto costitutivo e uno statuto all'agenzia dell'entrata. Un attantum questo si fa solo all'inizio, l'atto costitutivo immagino sia una cosa che è precompilata, si può scaricare, si compila, chi deve far parte di queste SD? Che figure ci devono essere per forza? L'atto costitutivo e statuto come hai detto più o meno sono sempre gli stessi, poi è possibile personalizzarli perché sono in forma libera, è necessario indicare all'interno tra i requisiti obbligatorio, un consiglio direttivo, quindi un presidente, un vicepresidente, tre consiglieri e è necessario stabilire alla base quelli che sono appunto l'attività dilettantistica sportiva, quindi una serie di requisiti tecnici burocratici, però poi bene o male le regole all'interno sono sempre le stesse. È una cosa fattibile. Sì. Come è cambiata il pagamento dei collaboratori di un SD? Cioè ammettiamo che creiamo queste SD e abbiamo bisogno di almeno di un meccanico che ci segue i ragazzi in corso o comunque che si occupano anche delle bici. Come conviene pagarlo adesso con nuove normative? Allora con la nuova normativa sullo sport che è in vigore dal 1 luglio 2023 sono cambiate un po' le cose per i collaboratori meccanici eccetera in quanto è obbligatoria una comunicazione preventiva, un milav e l'iscrizione al registro delle attività sportive dilettantistiche e questi collaboratori fino a 15.000 euro possono ancora essere pagati senza busta paga. È prevista anche delle esenzioni contributive fiscali, quindi fino ai 5.000 euro totalmente esentasse, dai 5.000 ai 15.000 si pagano solo i contributi, sopra i 15.000 sono tutti gli effetti dei lavoratori dipendenti perché pagano IRPEF contributi e hanno un cedolino come i normali dipendenti. Quindi diciamo che se paghiamo un collaboratore fino a 15.000 euro può avere senso pagarlo in questa maniera, sopra magari è meglio prendere una persona che abbia una partita IVA che ci mandi le fatture ASD. Spesso, soprattutto mi è capitato con qualche cliente meccanico, è molto più conveniente avere una partita IVA perché ti permette di fatturare, non fare il cedolino, quindi anche l'ASD ha sicuramente dei vantaggi e dei costi inferiori di professionisti. Ha vantaggio anche il meccanico, anche il meccanico di vantaggio, può entrare a forfettare, può fare partita IVA più economica. Esattamente. Va bene. Chiamo una squadra, abbiamo bisogno però un po' di soldi per pagare il gasolo per le trasferte, abbiamo bisogno di liquidità. In Italia funziona tutto con gli sponsor, quindi bisogna trovare qualcuno che vuole mettere il suo nome sulla nostra maglia e aiutarci, che lo faccia per puro volontariato perché sa che comunque a livello giovanile il ritorno che può dare un nome su una maglia è ridotto, però in qualche modo lo deve fare. Come si gestiscono gli sponsor per un ASD giovanile? Allora, gli sponsor sono tutti innanzitutto per un ASD giovanile perché anche il Peppino Salumiere, famosissimo Peppino Salumiere, che sponsorizza la squadra di giovani locale, comunque ha un ritorno sia a livello di fama ma anche fiscale in quanto il pagamento, gli oneri riferiti agli sponsor sono totalmente deducibili della sua attività, quindi fondamentalmente può scaricarli totalmente dalle tasse. Quindi una persona che, non so, paga 3.000 euro all'anno di tasse, se questi 3.000 euro li dà a un ASD, praticamente quelle tasse lì non le paga? No? Come funziona? No, no. Dimmela meglio. Dimmela meglio. Nel senso che se la tua attività ha un 5.000 euro di utile, le tasse a fine dell'anno le vai pagare sull'utile e 5.000 euro. Se ne dai 1.000 euro alla società, l'utile diventa 4, quindi le tasse le paghi su 4. Esattamente. Perfetto, quindi abbatti l'utile. Quindi se sei una società che è lì, l'ultima parte di scaglione, magari nella parte più costosa, dici questa parte qui, anziché pagarci delle tasse che sono pronte più della metà, se vuoi considerare tutto, li dona un ASD. Facciamo del bene ai ragazzi. Facciamo del bene ai ragazzi, dona un ASD, abbasso l'imponibile, ok, quindi è al 100%. Quindi la società lo può utilizzare tutto, cioè se la società riceve 1.000 può usare 1.000, non deve pagare delle tasse poi sopra. Assolutamente, sono sponsor per fini istituzionali, che è quello quindi del ciclismo in questo caso, ed essendo per fini istituzionali, quindi utilizzati direttamente dall'associazione per questo fine, non deve pagare nulla. Ok, quindi abbiamo creato una società, abbiamo un minimo di budget per poter andare alle corse e pagare cose indispensabili, dobbiamo affiliarci all'FC, giusto, la Federazione Ciclistica Italiana. Esatto, e abbiamo l'associazione a questo punto, ma per essere pronti a correre bisogna attraversare tre passaggi. Il primo è l'affiliazione alla Federazione Ciclistica Italiana, che è una pratica da fare online, ha un costo di 300 euro, ma per il 2024 è prevista un'agevolazione che abbassa il costo a 150 euro. Che anche questo è una tantum, si paga solo... Anche questo è una tantum, solo a... Anche questo è una tantum, solo a... Anche inoltre iscritti all'FC basta, poi nei successivi non si paga più. Esattamente, nel momento in cui mi affiglio alla federazione, devo anche indicare i miei ciclisti, i tesserati quindi, quindi gli associati che svolgeranno le gare e per tesserarli hanno un costo per quest'anno di 15 euro a corridore. Ok. E questo viene pagato ogni anno, quindi viene pagato quest'anno la quota 15 euro se... L'anno dopo prendi un altro corridore e paghi 15, ma anche lo stesso che lo ritesseri sempre 15 euro. Esattamente. Terzo punto invece? Il terzo punto invece è che devono essere minimo indicati 5 nominativi, quindi i ciclisti tesserati all'interno dell'associazione devono essere un minimo di 5 per poter affigliarsi alla federazione. Ok. Volendo spalmati anche su più categorie. Anche spalmati su più categorie. Potrebbe portare delle criticità, vedremo dopo, però puoi avere anche due lievi, tre riunioni. Esattamente. Ok. Una volta affiliati alla federazione è necessario iscriversi al registro CONI e al registro Sport e Salute. Anche qua sono due pratiche da fare online e queste non prevedono costi. E si fanno anche queste una volta sola? Solo una volta sola. Diciamo che c'è un po' di sbattimento iniziale che è nella società, però una volta fatto questo magari si può anche far aiutare da un commercialista o qualcuno che l'ha già fatto e insomma delle pratiche burocratiche che in Italia ovviamente ci sono per qualsiasi cosa, ma non mi sembrano neanche così assurde come in altre cose. Sto ristrutturando casa quindi non ho idea delle burocrazie che sto affrontando, sto finendo. Le conosco bene perché gli clienti... Quelle sono una cosa completa. Mi sembra veramente una passeggiata in un prato di margherita con la roba qua, rispetto a quello che sto passando. E ok, abbiamo una squadra, l'abbiamo affiliata, abbiamo i corridori, abbiamo pagato la loro tessera, i corridori dovranno andare a fare la visita di Riedonità immagino. Assolutamente. Quella va fatta. Come possiamo andare a fare una corsa? Allora, ci serve un direttore sportivo, questo è un requisito specificatamente italiano, cioè in altri stati, molti degli altri stati non è richiesto la presenza di un direttore sportivo riconosciuto dalla federazione, quindi si può andare a correre senza. In Italia serve un direttore sportivo e serve anche del livello corretto, quindi se abbiamo una squadra dei giovanissimi serve un direttore sportivo di primo livello, una squadra di esordienti allievi di secondo livello, una squadra di juniores, under 23 o professionistica di terzo livello. Questo potrebbe sembrare un ostacolo gigante per molte persone che dicono, caspita, ok, faccio tutto, però dove lo trovo un direttore sportivo? Le strade sono due. La prima è se qualcuno, delle persone che fanno parte della società, vuole fare i corsi, si possono fare, sono aperti a tutti, non c'è bisogno di nessun prerequisito, basta soltanto sapere andare un minimo in bicicletta, anche perché nel primo livello c'è anche una parte pratica, anche nel secondo, in cui bisogna dimostrare sapere andare in bici, non vi chiedono niente di particolare, però è giusto saperlo fare. E poi si fanno questi corsi, li ho fatti anch'io tutti e tre, ci ho messo un anno a fare tutti e tre, quindi non è una cosa impossibile, si può fare. La seconda possibilità, siamo andati sul sito della federazione a vedere la quantità di squadre presenti sul territorio, quantità di atleti presenti sul territorio e il numero di direttori sportivi presenti, abbiamo visto che ci sono un sacco di direttori sportivi a piedi, che probabilmente non lavorano con nessuna squadra, perché sono veramente tanti, soprattutto i terzi livelli abbiamo visto, ce ne sono veramente tanti rispetto alle squadre che ci sono. Quindi potreste provare ad andare a contattare direttamente un direttore sportivo che magari per quell'anno non si è tesserato per nessuna squadra, perché si è preso un periodo sabbatico, magari sta anche cercando lì addirittura una squadra dove poter iniziare alla collaborare, ma non ci sono squadre, quindi i DS secondo me si trovano, sul sito della federazione trovate tutti i tesserati, quindi anche direttori sportivi e quindi il loro nome e anche i contatti, quindi potrete provare a fare questa cosa per trovare un direttore sportivo, perché quello è indispensabile per poter correre. Ok, però trovato un direttore sportivo bisogna iscriversi alla corsa. Esattamente, le corse anche loro sono organizzate talvolta dalle stesse squadre che hanno dei ragazzi, sono ASD generalmente, e c'è un numero limitato di partenti. Esattamente, innanzitutto il numero massimo è 200 iscritti a corsa, e non è detto che tutte le corse accettino 200 iscritti, perché se l'organizzazione non ti permette di avere un sufficiente controllo per le strade o sufficiente personale medico, è possibile anche che certe manifestazioni siano per 150 iscritti, per 160-170. Inoltre, e stiamo parlando di preciso della categoria di uniores, le corse sono di tre livelli, internazionali, nazionali e regionali. Per le corse internazionali e nazionali è necessario l'invito. Quindi, ovviamente, se creiamo un'associazione sportiva dilettantistica dal nulla, avere l'invito a determinate corse, quantomeno inizialmente, è impossibile. Possibile, però non è neanche una cosa per forza a cui bisogna ambire subito. Esattamente. Anche perché sono ragazzi che non trovano squadra per correre, non li conosce nessuno, ci sta che devono farsi un po' le osse in gare regionali. Dove invece si potrebbe andare? Dove si potrebbe andare? Non è necessario l'invito, sono necessari spesso altri paletti nel regolamento a cui bisogna fare attenzione, come ad esempio in molte manifestazioni regionali viene data la precedenza alle squadre provinciali, quindi magari partire dalla propria provincia è ancora un po' più facile che dalla propria regione. E in molte manifestazioni è anche previsto un numero minimo e massimo di iscritti per categoria. Spesso minimo di 5, massimo di 8. Diciamo che il massimo di 8 è una cosa imposta dalla federazione. Esatto. Il minimo di 5 è una cosa chiesta dall'organizzatore per avere squadre un minimo complete. In realtà non c'è una regola che dice che devono esserci nel minimo 5. Assolutamente no. Però l'organizzatore dice ok, scelgo tra tre squadre da due o una squadra da sei e a volte prendono una squadra da sei, quindi la eserciscono così. Quindi questa cosa potrebbe contribuire. Quindi i minimo 5 atleti che abbiamo, di cui abbiamo bisogno per creare una società, è meglio che siano della stessa categoria in modo da poter avere facilità poi ad andare alle corse sicuramente. Esattamente. Inoltre, altro aspetto in cui bisogna stare attenti è il fatto che l'apertura delle iscrizioni spesso è un click day fondamentalmente. Quindi abbiamo 200 posti, le iscrizioni aprono tal giorno, tale ora, bisogna essere veloce anche ad iscriversi perché poi soprattutto in determinate regioni è un attimo che il parterre dei partenti viene completato. Sì, è una cosa che non è facilissimo, come abbiamo visto, soprattutto riuscire ad andare alle corse, però si può fare. Se siete genitori e avete ragazzi che vogliono iniziare a correre, sicuramente ci sono attorno a voi altri genitori che hanno ragazzi che vogliono correre, non trovano squadra. Potreste veramente provare a creare una società e provare a farle correre. Non c'è bisogno di correre tutto l'anno, non c'è bisogno di correre tutte le domeniche. Se riuscite a iscrivere i ragazzi per quattro domeniche di fila, vi fate un bel blocco agonistico che fate delle gare, arrivate belli pronti, poi non corrono per un mese, si allenano, fanno altro, non c'è bisogno veramente di fare tutte le domeniche attività. Questo anche per le squadre canoniche che corrono da 30 anni nel ciclismo, non c'è veramente bisogno di correre da marzo a ottobre tutte le domeniche. Questo è un altro discorso. Spero che questo video possa aiutare a sensibilizzare un po' la cosa. Da un lato alle famiglie, per dar loro una possibilità, esiste, cioè si può. Dall'altro la federazione per cercare di rendere un po' più facile la possibilità di correre ai ragazzi che vogliono iniziare da live e da juniors, perché è comunque molto complicato. Sarebbe più semplice se fossero abbattuti un po' di paletti. E poi un'altra cosa, mi piacerebbe che gli organizzatori fossero un po' più aiutati. Adesso la federazione ha messo una possibilità per gli organizzatori di chiedere fino a 5 euro di tassa, diciamo, per ogni ragazzo che partecipa alla gara. Da molto è stata vista come una cosa, ah non è possibile, si mette ancora poi in difficoltà le famiglie, le squadre. In realtà forse quelli più in crisi in assoluto in questo momento sono gli organizzatori. Certo, certo. Perché se per mettere il nome su una maga di una squadra, magari lo sponsor si trova anche, per mettere il nome su uno striscione delle premiazioni di una gara è molto più complicato. I costi sono alti e c'è un rischio, se quella domenica lì diluvia o c'è quel tempo salta anche tutta la gara. E c'è un rischio anche organizzativo delle responsabilità da vendere. C'è una burocrazia molto maggiore, perché bisogna comunque allettare i vari comuni in cui si passa. È una gran menata organizzare corsi su strada, è veramente complicato e questi organizzatori devono anche pagare la federazione per poter organizzare corsi, devono pagare i premi ai ragazzi. I primi dieci prendono dei primi in denaro, c'è un minimo che deve prendere ogni ragazzo e questi soldi devono essere dati all'organizzazione. Quindi il fatto che l'organizzazione possa prendere qualcosa ci sta secondo me assolutamente. Anche perché bisogna prendere esempio dei modelli virtuosi. Cioè l'utilismo amatoriale in Italia funziona benissimo perché si paga per andare a fare le gran fondo, si paga per andare a fare i circuiti. Con questi soldi si riesce a organizzare qualcosa di più o meno fatto bene, però si riesce a organizzare. Deve riuscire a organizzare qualcosa più o meno fatto bene a sempre meno corse, queste corse sempre più piene di ragazzi, quindi sempre meno spazi per i ragazzi per andare a correre, ce ne passa. Quindi bisogna trovare un po' una soluzione perché ho molto a cuore il futuro discrimo giovane italiano, come siamo essi adesso, non è proprio il massimo. Qualcosa deve cambiare. Era uscito un video qualche giorno fa in cui una spiegava come tesserarsi essenzialmente vedeva un po' la differenza tra agonistico e amatoriale, oggi abbiamo visto un po' anche come creare una SD. Sotto quel video c'erano alcune domande che vado a leggerti in modo da poter rispondere. GS112 chiede, ho intenzione di partecipare a qualche evento grave, l'assolutamente non competitivo. Eppure già per le distanze di circa 75 km le organizzazioni chiedono il certificato medico agonistico. Rivolgendomi al centro medico mi hanno detto che il certificato non me lo fanno senza iscrizione a una società affiliata alla federazione. Il tesseramento più economico di una società che ho trovato in zona di 180 euro, sia ok completino, ma a me non interessa, nel senso che 180 euro perché ti danno anche il completino, non costa realmente così tanto un tesseramento. Che voi sapete ci sono alternative sui tra la federazione, ci rinqui tutte le società amatoriali o solo quelle con indirizzo sportivo? Allora, innanzitutto se ci si rivolge a uno studio privato, la visita agonistica la fanno anche senza il tesseramento, in quanto anche per le Gran Fondo sono obbligatorie le visite mediche agonistiche e ci si può iscrivere alle Gran Fondo anche senza essere tesserati per forza ad un'associazione, quindi con la tessera giornaliera e svolgere la visita agonistica. Quindi diciamo, quando vado a fare la visita agonistica a volte mi chiedono la richiesta alla società per fare la visita. Però se tu dici no, non ho nessuna società, non mi serve questa richiesta perché non mi tessererò, puoi farla comunque, anche non puoi farla. Al 100% puoi farla. E inoltre ci ha chiesto, come si chiamava? Jesse. Non mi cosi, non mi preoccuparti. E inoltre ci ha chiesto come poter trovare nella propria zona qualche associazione con cui tesserarsi e sul sito della federazione è presente proprio tutto l'elenco. Se si va su società è possibile selezionare per regione l'elenco dell'associazione sportiva di elettantistiche ed è possibile trovare tutte le associazioni a cui iscriversi. Regione e anche provincia, quindi si può restringere il campo, abbiamo visto, ce ne sono tante, sono segnate, sono mischiate sia quelle che si occupano amare solo di ciclismo giovanile sia quelle che si occupano solo di ciclismo amatoriale. Non c'è una differenza, il sito l'FC li considera tutto SD, vi mettete lì e qualche chiamata le trovate. Comunque se voi poi aprite il loro sito internet vedete se esistono ragazzini, esistono amatori, quindi si può fare. Giampaolo Salsi ci chiede, ma quindi per partecipare al Gran Fondo in generale a quelle giornate organizzate localmente con le strade chiuse è necessario essere tesserato? Non basta pagare la quota di iscrizione? Non esiste la possibilità di fare l'amatore fino in fondo, partecipare al sito di spettagonistico? Sì, esiste la possibilità di fare l'amatore fino in fondo, anche senza tesserarsi ad alcuna associazione sportiva di elettantistica. È possibile fare la tessera giornaliera, 10 euro, la singola manifestazione e comprende sia il tesseramento per la manifestazione che l'assicurazione. Quindi è possibile anche senza far parte di un'associazione partecipare alle Gran Fondo. Diciamo che se fate almeno tre manifestazioni all'anno conviene col punto di iscriversi. Assolutamente. Se ne fai una spot perché vuoi provare o altro puoi farla anche così, altrimenti con due o tre manifestazioni hai già coperto il posto in un'ultima tessera. In quale sezione trovo le società affiliate per l'amatore della mia zona? Abbiamo risposto già prima, c'è una parte appunto del sito l'FC, società, società c'è sotto tutto e le puoi trovare. Qui ci chiede Luigi, zizio, questa cosa. Si trovano. Si trovano. Gianluca, ti ringrazio per queste informazioni. Spero che riusciremo a smuovere qualcosa qui con GIS in Italia, con l'aiuto di persone tecniche che lavorano nel campo dell'SD. Grazie a te, è stato un piacere essere qua e poter aiutare dando qualche informazione anche da chi ci sente a casa. Quindi ricordo, c'è Luca Crespi, se avete bisogno di qualche informazione a livello commercialistico. Tu lavori in zona Liguria, no? Io sono Liguria, poi seguo clienti un po' in tutto il nord Italia anche, ma sui social mi trovate senza problemi. Va bene, grazie, noi continuiamo. Notizia della settimana, Silke ha appena lanciato un nuovo sistema per cerare la catena. Come saprete abbiamo fatto un video dove ceravamo una catena, la parte diciamo più complicata di tutto il sistema era preparare questa catena per la ceratura perché doveva essere pulitissima. Ecco, Silke ha facilitato notevolmente la cosa creando due prodotti. Il primo, una pentolina per la ceratura con un supporto per la catena, quindi che facilita parecchie operazioni, non dobbiamo andare a comprare pentolini, cose strane, viene già fuori tutta la Silke con le giuste dimensioni, le giuste temperature. E poi una specie di detergente fornito sotto forma di tavolette di cioccolato, che entra lontana dai bambini. In realtà ognuno di questi pezzi della tavoletta è uno sgrassatore da far sciogliere nella cera e quindi si può prendere una catena nuova, già sul grasso con cui viene lubrificata una catena prima per non farlo ossidare, si immerge direttamente la catena dentro la cera con questo prodotto detergente e sgrassatore inserito e praticamente potremo cerare direttamente una catena senza pretrattarla, quindi riducendo parecchio i tempi. Trovate tutto sul sito di Silke, per darvi un'idea il pentolino per l'acceratura con i vari supporti costa 119 euro, mentre la striscia da 12 di detergente costa 29 euro. Si è conclusa la cinquantesima volta al Garve, probabilmente una di quelle col parterre migliore in assoluto, una sua cinquantesima edizione appunto, ha vinto il stato Remco e Venepul, anche se nei due rivi in salita ha sempre vinto Daniel Felipe Martinez, che però ha pagato dazio in una cronometro stravinta dal fuoriclasse belga, campione del mondo crono appunto. Al terzo posto Jan Tratnik, che da Gregari, insomma, è sempre nato forte, è nato forte in questa occasione, poi Benili, Aresman, Pitcock, Van Aert, Kuss, Kung, insomma come ho detto, start list impressionante, qui si può ben vedere. Si è conclusa anche l'ottava settimana ciclista volta femmina della comunità valenziana, vinta da Marlène Rosser, tanto per cambiare una ragazza del team SD Works, tra l'altro ieri è uscita una puntata in cui Janan e Elina Lazzaro parano bene tutto il ciclismo femminile, le ragazze da seguire, le corse più importanti, insomma, ve lo consiglio, siete appassionati di ciclismo femminile e non solo. Da notare il quinto posto di Gaia Realini, ma soprattutto le due vittorie di tappa di Elisa Balsamo, che ha iniziato questo 2024 veramente bene, speriamo che i problemi suoi siano passati definitivamente e possa fare un'annata strepitosa. Nel weekend si è corsa anche la cinquantasesima edizione del Tour des Alpes Maritmes, il giro delle Alpi Marittime. L'ha vinto Benoit a Cossfroix, davanti a Vincenzo Albanese, che è dato secondo per solo i due secondi, pensate che Vincenzo è arrivato terzo sia nella prima frazione che nella seconda. Settimana scorsa si sarebbe dovuta correre anche la Welta Andalusia, ruta ciclista del Sol, dico si dovrebbe perché in realtà delle cinque tappe si è corso soltanto una prova accorciata, una cronometro di cinque chilometri, vinta da Van Gils, secondo posto per Raiuso e terzo posto per Antonio Tiberi. Tutta la corsa è saltata, anche la classifica generale non è stata fatta per le proteste dei coltivatori Spagna che hanno impedito il regolare svolgimento della gara. Passiamo alla vignetta di Andrea Gandolfo, domenica è uscito un video sui vantaggi che può portare lo stare in scia nel ciclismo su strada e lo giustamente dice come stare in cima al gruppo senza affaticare, se si lega una scala dietro si può stare davanti spingendo molto poco. In ogni caso quelli dietro fanno comunque meno fatica, ci sono un po' di problemi nel sorpasso però dietro si fa comunque meno fatica nonostante la scala. Proseguiamo con i vostri commenti, sono pochi vista la durata dello show e visto anche perché non ho il maranga da prendere in giro durante questa fase, però ci tenevo a leggere questi commenti. PDGR, riferito allo show di settimana scorsa riguardo le tende ipobariche e pensare che sono anni che usa la macchina per il sottovuoto non sapendoli dopare l'affettato. Le tende ipobariche tolgono ossigeno, tolgono pressione e col sottovuoto in effetti si fa la questa cosa avrà un affettato performante. Simone 1979 A me il video in mountain bike è piaciuto, vi prego continuate a farli. I guanti con dita lunghe servono per protezione in caso di caduta, i sassi fanno male o in caso di sentieri con rami rovi che ostruiscono parzialmente il passaggio. Con i guanti a dita corti trovi sempre le mani che sanguinano. Vero, grazie. Mi ero lamentato del fatto che mi hai detto di mettere i guanti lunghi, pensavo fosse solo una moda, in realtà in tantissima avete scritto che i guanti lunghi servono per proteggere essenzialmente dai rovi, dalle spine sui sentieri. Noi avendo fatto sentieri veramente larghi e semplici non mi è neanche venuto il dubbio che potessero servire a quello e in effetti possono aguitare. Mentre per quanto riguarda le cadute non lo so, perché alla fine anche su strada se cadi sull'asfalto a 50 all'ora, la prima cosa che metti giù le mani è i polpastrelli e i limi, quindi da questo punto di vista dovrebbero servire anche per la strada, oppure non servono ne entrambi, oppure i polpastrelli chi se ne frega, non lo so, però ovviamente se ci teniamo alle dita quanti lunghi proteggono di più, siamo d'accordo. MRG, sarebbe bello avere un confronto in gara tra una classica di un giorno molto nervosa come l'Amstel o la Omloop e una tappa da velocisti, ma non totalmente piatta, di un giro o una Tirreno. La gara forse più simile ai dati mostrati nel video potrebbe essere i primi 200 km da Sanremo, visto che si gioca a spremiare le energie. Sì, vi ho fatto vedere dei dati di De Lille in una gara in Cina dell'anno scorso in cui c'erano dei tratti in pienura in cui essenzialmente andava a 55 all'ora con 70 Watt e poi anche lì bisogna vedere la media di quel tratto, perché magari ci sono dei pezzi in cui si sta un po' staccando da quello davanti, da due o tre pedaltine segna 400 Watt, ma per uno o due secondi, poi torna a 60 Watt, poi non pedala proprio, quindi per dimostrarvi comunque veramente anche dati alla mano, De Lille uno dei pochi che posta i dati nei pro di quelli che vincono e faceva pochi Watt. Una corsa come l'Amstel nella Omloop diventa talmente importante stare davanti, soprattutto l'Amstel per la quantità di corse e di curve, di strappetti che ci sono e anche strappi veri e propri, che il discorso di essere avvantaggiato e non stare nell'ultima posizione viene totalmente meno. Ovviamente l'Amstel tutti vogliono stare davanti, anche se si fa un più di fatica, anche magari prendendo aria in faccia quando serve, però bisogna stare davanti. Quindi la dinamica, lo stare dietro aiuta tantissimo, però va messo sulla bilancia con essere nel posto giusto al momento giusto e per quello bisogna correre davanti. Quindi è vero in un mondo ipotetico, nel mondo reale bisogna misurare le due cose e vedere cosa conviene di più. Commenti finiti, passiamo alla Caption Challenge. Abbiamo messo una foto di Borgadò che esce in una zona avvitata di 18 anni. Federico Ballardini, quando il DS a fine gara ti manda a fare i massaggi e tu fraintendi. Non so a cosa si riferisca, voi siete più maliziosi di me, lo saprete sicuramente. Foto per questa settimana, vediamo la Yaya Sanguinetti, distesa, devastata a terra, ha fatto un gran lavoro per la Balsamo in questi giorni. Lei è una delle ultime donne, quelle che tirano alla volata tra le migliori al mondo, insieme alla Guarischi, come diceva anche la Lazzaro. Quindi la vediamo qui esausa dopo aver fatto il suo lavoro, una tappa evidentemente molto esigente. Scrivete quello che volete qui sotto nei commenti con l'Astra Caption Challenge e premeremo con una borraccia il migliore di voi settimana prossima. Siamo arrivati alla fine di questo 268esimo GCN Italia Show, dal prossimo tornerò al Maranga e chiederò come è andata negli Emirati Arabi Uniti, cosa ha visto, spero che abbia fatto un sacco di video in modo da mostrarvi cose interessanti, chicche tecniche e anche roba da pazzi nel deserto, penso che hai in mente qualcosa del genere. Per non perdere questi contenuti mi raccomando iscriviti al canale GCN Italia e metti un bel like a questo video se ti è piaciuto. Arrivederci alla prossima puntata, ciao!